Ecco, cosa ne pensa di Meggiugorie su Meggiugorie e cosa dirà magari la Commissione Vaticana? Io ho fiducia che si farà ciò che il Signore vuole, sono fiducioso, hanno ben lavorato in Commissione e poi la saggezza della Chiesa ci darà la parola, pregare e far fiducia. Bisogna salvaguardare Meggiugorie. C'è la cospa, non siamo soli, il Signore si occupa del suo popolo, abbiamo fiducia.